è arrivato questo secondo scudetto è arrivato questo secondo scudetto più sofferto del primo una stagione difficile, piena di infortuni ma queste ragazze hanno un cuore immenso e Daniele e lo Stavos sono stati bravi a portarle a questa vittoria credo che se lo meritano è uno scudetto del cuore tanti infortuni, tanti contrattempi un paio di finali perse ma poi è arrivata questa soddisfazione è arrivata la soddisfazione più grande abbiamo perso due finali importanti ma lo scudetto è lo scudetto e ci godiamo questo sogno e questo pubblico straordinario questo pubblico incredibile avete visto oggi quanta gente c'era, quanta gente ha difatto sempre correttamente, è la più grande spinta che noi possiamo avere adesso arriva un altro impegno importantissimo intanto festeglieremo a Prosecco questa notte poi festeglieremo domani avete vinto la scommessa di un allenatore molto giovane non era una scommessa, ci avevamo pensato bene eravamo convinti che ce la potesse fare è andato ben oltre le aspettative